E' una data storica, è il commento del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci a margine del vertice romano al Mimit sulla questione ex ilva di Taranto, il primo cittadino che ha già inviato documentazione con proposte definendo il percorso che l'intera comunità vuole compiere in relazione al rapporto con la grande industria. E' stata accolta la visione di un accordo di programma che rimetta al centro le esigenze della comunità, soprattutto quelle di natura sanitaria e ambientale, che abbia anche al proprio interno una previsione seria per i prossimi anni, per il mondo del lavoro e per le tecnologie da impiegare nello stabilimento. Spiace tuona Melucci che parte dei sindacati sia ancora ancorata a vecchie logiche, ma la città vuole andare avanti con la produzione e senza danno sanitario. Lo spiace a margine di questo tavolo è registrare che ancora una parte del sindacato è ancorata a vecchie logiche rispetto alla definizione del percorso dello stabilimento siderurgico, ma la città ormai vuole andare in fretta avanti, vuole mettersi alle spalle una stagione di ingiurie e di attenzioni solo verso la produzione e bisogna fare in modo che il nuovo piano industriale stia ancorato alla valutazione del danno sanitario. L'esito del vertice romano con la prospettiva di un accordo di programma dunque per Melucci è in sintonia con la volontà dell'amministrazione. Senza questo passaggio, senza accordo e piano nazionale della siderurgia, anche quest'ultimo elemento fondante della nostra relazione ripreso dal ministro, non ci sarebbe futuro per l'ILVA, dichiara il sindaco, che conclude vogliamo credere che il governo rispetterà gli impegni assunti. Siamo pronti a dare il nostro apporto e a sorvegliare gli interessi primari della comunità. Grazie a tutti.